Un giorno nel 2006 sono entrato in un carcere in Argentina, il carcere di Mendoza, e sono entrato in un padiglione, il padiglione numero 5, da solo, senza nessuna guardia. Erano detenuti molto pericolosi. Grazie a queste foto sono riuscito, insieme a Amst International e l'argentino, a liberare questi detenuti, a trasferirli in un altro carcere, migliore di dove stavano. Valerio Biscuri, benvenuto Valerio, accomodati sui nostri gradini. Perfetto. Allora, tu sei uno dei più importanti fotoreporter italiani, hai lavorato all'estero tantissimo facendo dei reportaggi in Medio Oriente, Africa, ma soprattutto in America Latina dove hai vissuto per tanto tempo. Ho vissuto dieci anni in Argentina, poi ho viaggiato per l'America Latina molto. Ma cosa ti ha spinto a voler intraprendere questa carriera di fotoreporter? Ma da sempre una curiosità per cercare di capire quello che non si vede, quello che è un po' nascosto, cioè la voglia di andare oltre, raccontare la storia degli invisibili, di chi non si vede, carcerati, drogati, malati mentali, rom. Quando ti è venuta questa passione? Perché inizialmente magari tu avevi una passione per la fotografia. Beh, avevo una passione per il giornalismo, proprio all'inizio, finita dalla scuola, quindi ormai parecchio tempo fa. Poi si è trasformato, ho conosciuto la fotografia, ho visto che secondo me la fotografia era un mezzo importante per poter raccontare un certo tipo di cose, di individui. Raccontare per immagini, infatti stasera ci hai portato delle immagini significative di alcuni tuoi lavori, che ti pregherei di commentarci, le guardiamo lì. Ah, questa è la tratta delle donne in Argentina, tantissime donne sia in Argentina ma in tutto il Sud America spariscono, cioè vengono o rapite o fatte venire con una scusa, un po' come le nigeriane qua da noi e poi spariscono nel nulla, sono le nuove desaparecidos argentine in qualche modo. E questa ragazza quanti anni aveva? Questa ragazza a 21 anni è stata rapita quando ne aveva 16, è del Paraguay, l'hanno fatta venire a Buenos Aires offrendogli un lavoro che poi non esisteva e l'hanno catturata, adesso non racconto tutte le cose terribili che ha vissuto, ma è riuscita a scappare, è riuscita a scappare e anche a nascondersi, fino a che un'associazione nata da poco a Buenos Aires di madri che stanno cercando di recuperare queste donne o queste ragazze scomparse, l'ha trovata e in qualche modo la sta cercando di aiutare. E questi due ragazzi invece che vediamo ritratti in questa foto? Ah, questi due ragazzi, sono due ragazzi di Salvatore di Bahia ed è una delle foto principali di Paco, che è il lavoro che è uscito l'anno scorso, è durato tanti anni, Paco è una droga che si è sviluppata in tutta l'America Latina ed è fatta con i residui della cocaina, per cui sei mesi, un anno e si muore. È una droga che costa pochissimo? Costa pochissimo, sì, questa è la forza di questa droga, costa molto poco. Ha degli effetti immediati? Ha degli effetti micidiali, venti volte più forti della cocaina. E tu sei riuscito ad infilarti addirittura lì dove la producono, nelle cucine? Sì, nelle cucine del Paco, ci ho messo due anni per arrivare nelle cucine, perché l'abbiamo fatto anche di nascosto, perché se lo vedevano i narcotrafficanti non erano molto contenti, quindi tramite persone con cui lavoravo siamo riusciti ad entrare nella cucina, quello è stato uno dei punti finali del lavoro, che è un libro, Paco è uscito, è un libro pubblicato da Contrasto, l'anno scorso, che racconta proprio questa droga. Questa altra foto invece? Questa altra foto è stata fatta a Santiago del Cile, riguarda l'altro lavoro inserrato proprio sulle carceri, anche questo è stato un libro, è uscito cinque anni fa, e racconta proprio nei volti quello che io cerco, la speranza, le difficoltà, la tristezza, tutto quello che rappresenta la privazione di libertà. Quanto tempo sei stato con i detenuti? Il lavoro durò dieci anni, 74 carceri, quindi di tutti i paesi del Sud America, tanto tempo perché comunque capire, oltre che avere i permessi, è un tempo burocratico, ma soprattutto pranzare con loro, una cosa che facevo era pranzare con loro per parlare, vedere che cosa vuol dire essere privi di libertà. Un'altra fotografia? Questa la chiamo la sposa triste perché riguarda il lavoro che ho fatto sui rom. film, la cosa che mi piace soprattutto di questa foto non è soltanto il racconto di quello che sta succedendo, ma lo sguardo delle persone. Credo che poi la fotografia ha bisogno di quella andare oltre, che vuol dire non solo raccontare quello che succede, ma raccontare i sentimenti delle persone. Leggere dentro, sì, gli sguardi di questa sposa che sembra un po' triste. Quest'altra foto? Quest'altra foto è un lavoro che sto facendo da 5 anni sulla sordità, anche i sordi per esempio hanno un'enomazione importante che si conosce molto poco, è anche un lavoro, è una grande sfida perché fotografare qualcosa che praticamente non si vede, perché noi potremmo essere tutti sordi, cioè non c'è una menomazione fisica che con la fotografia può uscire, quindi il lavoro è un lavoro di introspezione molto importante e la chiave di lettura dopo un anno di lavoro è stato raccontare il loro rumore. Ma per te che cosa significa testimonianza? Testimonianza vuol dire raccontare la verità, dal punto di vista umano e antropologico e giornalistico. Quello che si vede va raccontato. Non dare una propria interpretazione della verità. No, non è quello per cui lavoro. Raccontare l'interpretazione poi la dà ognuno se vuole, ma il compito di chi racconta è mostrare quello che è la realtà. Ma perché tu senti così forte dentro di te l'esigenza di testimoniare raccontando la realtà? Non lo so, è una cosa che ho sempre avuto dentro. Se uno vive nel mondo secondo me non si può fermare a pochi metri quadrati, devi andare a capire un po' quello che c'è e se può raccontarlo. A rischio della tua stessa vita a volte. Quello fa parte anche, uno cerca di proteggersi il più possibile, però se si sceglie di fare il fotoreporter certo un po' si rischia. Vale la pena? Secondo me vale la pena, a me piace molto il mio lavoro. Va bene, grazie. Grazie davvero per averci raccontato il tuo lavoro. Grazie.